In un mondo digitale veloce e volatile, non è facile fare previsioni. Con le minacce sempre in agguato, devi essere pronto a difenderti da tutto. Akamai può aiutarti. Centinaia di ricercatori Akamai analizzano 290 TB di dati ogni giorno per disporre di un'intelligenza integrata e una protezione automatica contro le minacce. Da piccoli, subdoli schemi di phishing ad attacchi DDoS molto estesi. Akamai protegge il tuo ecosistema. Cloud, app, api e utenti. Per mettere al sicuro le aziende senza rallentamenti. Una difesa perfetta. Cloud, appi e utenti. Grazie.